Antonella Fiordelisi è crollata stanotte al GF VIP 7 con Edoardo Donna Maria. Nei primi giorni della loro relazione era sempre il volto di forum a cercare Antonella. A dichiararsi e a risultare di conseguenza il più coinvolto dei due. Antonella finora ha provato sempre a prendere in mano le redini del rapporto dettandone i tempi. D'altronde il suo motto è In amore vince chi gioca. Il che è tutto un dire. Ha giocato finora probabilmente. Ha fatto capitolare Edoardo ai suoi piedi e adesso che è certa di averlo in pugno anche lei può lasciarsi andare. Il suo modo di giocare in amore verrà fuori men mano. Intanto stanotte i ruoli si sono invertiti. Dopo gli ultimi ingressi nella casa Antonella è cambiata molto. Sui social c'è chi sostiene sia crollata per semplici insicurezze e chi invece è dell'idea che stia vedendo il suo regno crollare a pezzi. Stando ad alcuni commenti molto diffusi su Twitter. Infatti. La Fiordelisi si sarebbe messa da sola su un piedistallo al GF VIP 7 ritagliandosi un ruolo che nessuno però le ha riconosciuto. Adesso che ci sono nuovi concorrenti sente la terra tremarle sotto ai piedi. Televisivamente parlando. Passa molto tempo in disparte adesso e ci sono state discussioni con Edoardo Donnamaria. Già nella prima notte con Oriana e Micol nella casa Antonella è uscita fuori di sé. Da una parte è pronta a battagliare con i nuovi concorrenti. Dall'altra si è molto ammorbidita con il fidanzato. Anzi adesso appare decisamente cotta di Edoardo. Lui però appare più riflessivo perché non ha gradito alcuni comportamenti della fidanzata. Così stanotte lei ha provato a farsi perdonare invitandolo a ripartire da zero. Nel buio delle camere da letto. Antonella e Edoardo hanno avuto un confronto. A cercarlo è stata lei. Chiedendogli di parlare subito e di non aspettare altrimenti avrebbe fatto fatica ad addormentarsi. Voglio che mi cerchi te. Non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva. Lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te. Queste le spiegazioni della Fiordelisi. Ha spiegato ancora che sono questi i motivi per i quali avrebbe preferito evitare sin dall'inizio un coinvolgimento.